Un carnevale quest'anno nel segno dell'identità, dell'autenticità e della storia. Si parte con il riconoscimento che è stato fatto anche dal preside dell'Istituto Comprensivo del laboratorio artistico dedicato al maestro professore Friscia, il maestro di tutti questi ragazzi che nel tempo sono diventati pittori, scultori, artisti della cartapesta. L'altro aspetto storico che mi dà particolare emozione è il fatto che quest'anno a Parigi si sta discutendo affinché l'arte della cartapesta dei carri allegorici venga riconosciuta come patrimonio unesco. Questo che significa? Che l'arte della cartapesta è un bene da ideare, tutelare e promuovere. E devo dire che questi ragazzi lo stanno facendo con una straordinaria forza di volontà dettata soltanto da cuore, anima e passione per il loro paese. I carri allegorici saranno fondamentali di questa edizione? Quali sono le caratteristiche adoperate delle maestranze che li hanno costruiti? I carri allegorici quest'anno hanno dei temi un po' particolarmente significativi. C'è quello che riguarda la figura storica della maschera principale che è il Nanno. Il Nanno che viene accompagnato quest'anno, si siede ed è circondato da libri, quindi il valore della cultura, la cultura come cibo per la vita, i libri ancora nell'epoca del digitale rappresentano sempre uno strumento insostituibile di crescita. E poi c'è un carro anche di natura celebrativa, c'è una squadra di dipendenti che ha deciso di regalare, di commissionare una delle maestranze a un imprenditore che ormai è riconosciuto a livello europeo, un'icona nel suo settore, un filantropo. Penso al genio di Palermo che ha inserito all'ortobotanico, penso a una villa, non posso dire quale perché se no diventa chiaro, che ha ristrutturato da poco, penso alla pupa del capo che ha fatto restaurare, quindi è un originale regalo fatto da alcuni dipendenti che faranno questo regalo alla propria azienda per un compleanno speciale e anche a lui che è il leader, il capitano di questa azienda.